Murri che si finge Power su Fortnite E tra l'altro è un video vecchissimo raga È di 4 anni fa Quindi l'avrete visto sicuramente tutti Io però non l'ho mai visto e voglio vederlo Oggi ci divertiamo Ciao a tutti ragazzi con un saluto JaxMurri e benvenuti in questo nuovo video Guarda la reaction di Power Power ha fatto la reaction a Murri che fa Power No vabbè provo a vedere l'originale Non posso fare la reaction a Power che fa la reaction Troll di Fortnite e ho detto che oggi ci divertiamo Che soggetto che è Murri Ma quanto Murri è proprio simpatico È proprio simpatico È la classica persona con cui faresti tipo a scappellotti Però scappellotti affettivi Grazie Andrea ti voglio bene Grazie per l'icima Perché chi andremo a fingerci oggi È veramente difficile Infatti ma come fa lui a far Power Scusami su Fortnite Power è bravissimo Di oggi ci fingeremo Power Niente poco di meno che Power Un pro player a tutti gli effetti Ma come è scusami? Ma come è scusami? Guarda io sono sempre stata gentile Ti riassumo in breve cosa era successo Questa streamer era arrabbiata per qualcosa che era successo Io mi sono collegata in quel momento e l'ho salutata Lei ha letto il mio commento ed ha detto Ma chi se ne frega dei tuo saluto Ma come è scusami? Io le ho risposto Vaci tu maleducata e più riscirocata Io raramente uso parolacce emoticon sorridente Ma che cazzo è questa qui? La TVC Rebecca è una matta Comunque io lascio il suo canale qua sotto in descrizione Il suo Twitch insomma un po' di tutto Ma credo che lo conosciate benissimo Ma vagamente eh Power è vagamente conosciuto eh Ma qual è la difficoltà di imitare Power? È che essendo un pro player dovrei saper giocare Cosa? È un problema giocare come Power? Io non so fare Però ci sono anche delle altre piccole caratteristiche Che mi permetteranno di fingermi abbastanza convincente Come cazzo parlo? Che posso imitare abbastanza facilmente Prima di tutto mi servirebbe però un outfit un po' più adatto Si mette la paglia nella maglia dei fanatic? Eh direi che è Che cazzo è? Ragazzi non so che cos'è la scaf Non scusa non so che cos'è la scaf È una marca di roba È una marca di prodotti per il gameplay Controller Ah fai controller Ok ragazzi non lo sapevo Ragazzi non avevo idea Molto meglio così Tra l'altro Ma scusa ma perché c'ha Ma perché c'ha la sua maglia con quello che fai il controller? Ma che cazzo? L'Italia è nella top 10 dei produttori di armi La classifica Presente nell'ultimo rapporto del Cipri Stockholm International Peace Research Institute Vede il nostro paese al nono posto per quantità di armi esportate Per l'esattezza l'Italia esporta il 2,5% delle armi di tutto il mondo Ma scusa cosa c'entra scusami? Prima di noi in classifica troviamo USA 34% Russia 22% Francia 6,7% Germania 5,8% Cina 5,7% Regno Unito 4,8% Spagna 2,9% Israele 2,9% Chiude la classifica al deco sia caso Grazie mille per i cheer Grazie mille per i cheer però ti sospendo per 10 minuti perché è un messaggio che non c'entrava un cazzo C'è però una cosa che ho imparato di Power guardando i video è che è in fissa totale con il linguaggio giovanile Vabbè giovanile Gli slang dai Gli esgherebro e Esgherebro 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 sembra una grave malattia della pelle Esgherebro Esgherebro Sembra un danno cutaneo Provocato da una sepsi Esgherebro E benvenuto alla dpg333 Che non ho mai capito che cos'è Non ho mai capito che cos'è ragazzi Non ho mai capito che cazzo è la dpg333 Che cos'è? Qualcuno me lo può spiegare? Che cazzo è la dpg333? Un gruppo di re È la dark polo gang Ma Ah Ma 333? Ma scusa 333? Che cazzo 777 Allora ragazzi Allora Tra un po' qui andiamo a giocare a tombola 7733 Che cazzo? Dpg777 Sembra un nome di un vino rosso Sembra un nome di un vino rosso piemontese Ma sempre esghere così con le corna Ogni volta che si suba qualcuno su twitch Dice Bellissimo Che stronzo Ragazzi voi lasciate un mi piace E consigliatemi qua sotto Chi dovrei fingermi nel prossimo episodio 30.000 like Nuovo episodio Gang 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 Il tizio che ha scritto ora sto messaggio Che cos'era? Che cos'era? Che cos'era? Abbastanza Grazie bello robatino Ma che cos'era? Gang 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 Dovrei fingermi nel prossimo episodio 30.000 like Nuovo episodio Gang 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 Che cos'era? Gang 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 Che cazzo era? Gang 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 Angus grazie bello Si è avvenuto la barbata Gang gang Hello? Hello? Do you have the mic? Hello? Sghere bro? Do you have the mic? Sghere bro? Ma perché lo dice così? Sembra una malattia venerea Guardi lei ha la gonorrea e le sghere bro Gang 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 Hello? Hello? Do you have the mic? Hello? Sghere bro? Sghere bro? Do you have the mic? Va fan tu culo Tu hai tutta la torrazza No! Aveva il microfono! Cazzo! Cazzo! Mi ha accettato quello Mi ha accettato quello Aspetta I got a mic Hey! Sghere bro? Hey! Yes I have a mic Hey! Sghere bro? Yeah ok Welcome to the... Yeah ok EG333 And Sghere bro Now you have to tell me Why you did the sub Ma che imbecille What? Hi fellas and welcome to the DPG353 Ma non è che lo dice ogni secondo? Sghere bro It's scary Yeah E quello è schere Now you have to tell me What you did the sub Ma che coglione I don't understand Hi fellas And welcome to the DPG333 Ma basta! Ma non dirlo ogni secondo! Adesso penso che saluterò così tutti Domani quando vedo mia mamma Hello mother Welcome to the DPG333 Gengengengengeng Maria grazie per i quattro mesi di sub Vabbè non amate malatina Sghere bro What is DPG? Now you have to tell me Sghere mam Now you have to tell me Why you did the sub Sub? Questo non posso dire a mia madre Perché mia madre effettivamente Mi ha fatto la sub Yeah The sub on Twitch For who? For you? Yeah Didn't you sub me? No I don't know you Who are you? Ah Sorry Azz Vabbè però voglio dire ci sta C'è Power comunque è conosciuto a livello italiana Poi era quattro anni fa Quindi ci sta che fosse meno conosciuto A quattro anni fa È più conosciuto specialmente a livello locale Secondo me Sorry iPhone You knew me I'm one of the Fnatic I'm from Italy Ok I'm one of the Fnatic team Do you know Fnatic? Yes I know Fnatic I Fanti? Ma che cazzo? I'm one of the Fnatic team Do you know Fnatic? Yes I know I Fanti? Ma perché sei scemo? Maybe Dan if you want you can check me on Twitch And on YouTube I Fanti And on YouTube channel And of course I stream on Twitch Sghere bro Ma basta Gengengengeng Vabbè Murray Ma tu sei un cretino Gengengengeng Gengengeng Ha ricoglionito anche il bambino Ha ricoglionito anche il bambino Anche il bambino Gengengeng Gengengeng Oddio I'm not the best you know No don't worry I'm gonna carry you Do you mind if I'm streaming right now? Uh yes Come yes Che ragazzi tantalon capisci Ma no Tranquilli, te la faccio come il culo Welcome to the dpg 333 Ok guys, if you have the prime, you can sub me Yes, ok Yes, sorry, I was talking not with you But with my subs Andre, volevo solo dirti The weather outside is The fire is so delightful Since we've no place to go Let it snow It doesn't show sign of Un po' tardi Un po' tardi A te carissimo Buonasera mattino, un po' tardi ma ci sta Cazzo ho la maglietta scuff gaming, non posso perdere If you, over here Ah Ultime parole, muore Ultime parole famose If you, over here Ah Ultime parole famose Ahahahah Anche quando muore, let's get it bro Yeah, yeah Ah, I told you, I told you Let's get it Oh my god Ma dice solo quello I don't know, I just Ah, let's get it, let's get it Gang, 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 gang Ahahahah Vabbè, ma si è ricoglionito Gang, gang, gang Oh, not bad, not bad Do you use the controller or mouse and keyboard? Mouse and keyboard Ok, if you wanna buy a controller, you can use my discount code It's power Ma con la musica di Ahahahah Con la musica di Maria De Filippi On scuff gaming Do you know Ahahahah 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 Taratatatarara You can use my discount code It's power Ahahahah Ahahahah Ma che cretino Manfield, grazie per i quattro mesi di rispetto Mi trova per armati, Maratina On scuff gaming Do you know scuff gaming? No, I don't know It's a sealer of professional control Oh, good game Good game, gang, gang Gang, gang Welcome to TeddyPG333 Se lo dici a tua madre, ti disereda Tomani faccio un test Guardate, venici Maratino And if you use power as code, you have the 10% of discount Ma questo si sta menando con la gente, quello gli sta parlando Not bad You play in a... Oh, good game, bro So, let's get it Let's play again Can you give me a link for your... For your Twitch account? On Twitch? Yes Ok, I'm gonna stream again at 9.30, ok? Ok You can check me even... Ma scusa, me li sta dando veramente il link di power YouTube, you search for power, power TV But with 3 instead of the here, ok? Wait, you have a Discord? You want a discount? I own discount! With 3 instead of the here, ok? Wait, you have a Discord You have a discount Invece che... Hai Discord Hai un discount You haven't had a Discord all'iper pala cop power all'euro spin power hai un discount ma che c***o ma datina le ho già portati entrambi grazie per le c***o ma f***o giochiamo che c***o ma come 4 milioni no non è possibile minchia power aveva solo 400.000 follower all'epoca ma nessuno ha più di un milione ne ha fatta di strada il patatino ma no ma che c***o gli dici voi ma no è come dire che facciano tutti schifo ma noi c'abbiamo xyuder che c***o ne vuole sapete voi ninja tfw ma vaffanculo costaiden chi ma chi noi c'abbiamo lo xyuderone bell'andre seratina reaction e droga come droga no droga dopo quando stacco nel dubbio così live mi banno sennò sto scherzando ovviamente grazie per la roba grazie per la roba Settli, è smart. Chi? Sometimes streams. What streamer do you like? I like Settli. Settli. Smart, from Polish streamer. Ah è Pulà! Ecco non lo conosco ragazzi, è uno streamer polacco, che cazzo! I'm from Polish. Some international streamer, do you know? I played with TFU and Myth one time. What? Because there was a big tournament. Si è vero, è vero tra l'altro Power l'ha fatto quel torneo. And we participated. Ninja is a noob. Ninja Oddio Così Diretto me lo dici Avete fatto la stessa faccia Ah per forza Perché una troiata ha detto Ninja è un noob Oddio Mica tanto Per l'amor del cielo Uno può discutere Se è o non è il mio giocatore del mondo E quanti altri cazzi Per l'amor del cielo Sicuramente magari qualcuno più forte Si può anche considerare di trovarlo Però cazzo Da lì a essere un noob Insomma voglio dire Madonna santa Noob non è sicuramente Ninja è un noob Non mi piace Perché non mi piace Con una poca gente Però E poi ho giocato un po' a Fortnite Anche dopo Solo che mi hanno rotto il cazzo Di fare l'allegro carpentiere E sinceramente Mi hanno rotto le palle Cioè È bello da vedere È bello da vedere Però Dopo un po' Mi hanno rotto il cazzo Di giocare Perché arrivava la gente Ti buildava L'Empire State Building In mezzo secondo C'era gente che tritava i tasti Faceva la torre Eiffel In mezzo secondo E io mi hanno rotto i coglioni Quindi ho smesso Perché c'erano troppi Pro player Che tryhardavano E io mi hanno rotto il cazzo Quindi Però Lo seguivo ancora Perché era divertente Da vedere E fino a 5 4-5 anni fa Se tu dicevi Che Ninja era un noob Ti massacravano In chat Do you think He's noob? Giocherai di nuovo Raga Non sono buono ragazzi Non sarebbe neanche divertente Guardarmi ragazzi Non sono buono He's a noob player? Yes But He's noob a noob Pronti per la V2 Sistema FOBS sovietico Fu l'unico sistema Di armi nucleari Verso perché? Verso perché? Messo in servizio Nel 1969 Nel 1969 Fu ritirato nel 1983 In seguito ai trattati Solt II Con una gittata di 40.000 km Le testate orbitanti Sviluppate dal missile balistico Intercontinentale R-36 Potevano colpire ogni parte del pianeta Se fosse scoppiato un conflitto I sovietici avrebbero potuto distruggere Tutte le principali basi USA E di sistema di difesa dallo spazio Grazie Ti voglio bene patato Però adesso t'ho bannato Perché mi hai anche disintegrato le palle Per l'amor del cielo Adesso ti ho bannato Perché basta Ok Pensa un po' Adesso si sente il pro player de Cristo Che è la maestria nel costruire pure ragazzi Io vi saluto Vado a nanna che la sveglia è sempre alle 5.30 Che ho da stare dietro alle vacche e preparare il formaggio Fatatino Buonanotte Buonanotte Grazie Fatatino Grazie Fatatino Fatatino ciao Buonanotte Grazie per il Ciro No lo riammetto a fine live Non mi preoccupate dai Potete notare Ci metto 30 anni per selezionare la sveglia Ma perché è bann? Perché non posso essere interrotto ogni secondo Con le storie della guerra mondiale Che due palle Scala If you use the power code You have a 10% of discount on scuff gaming Ok 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 How many times a day do you say a schere? Do you often say it? Ma perché è coglione Murray? Ok Ok How many times a day do you say a schere? Quante volte al giorno dice schere? Ma perché è coglione? Ogni 5 minuti dico un schere Sennò Eschere mamma Eschere sister Dammi questo caffè eschere Ci vado all'eschere lavoro mamma Eschere Do you often say it? Or Eschere I don't know Do you ever say during the day eschere? Sometimes Or gang gang Oh gang gang Ok Ok in front of us In front of us Here 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 Beh oh Beh oh Erap è una borraccia niutilizzabile Al contrario delle bibite che pompano miliardi Certo Era un Questo era un botta eh Perché è rimasto immobile Ok In front of us In front of us Here 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 Beh oh dai Schere Schere Good game Good game Schere Ok Let's move There should be His mate I was here Not bad Bro Let's get it Gang gang How many wins do you have In solo In solo I have Not too much Don't worry You're gonna learn We can use the lunch But if you want No just I think we should use it If we are Really in danger We are almost in safe zone So don't worry How many skins Ma voi pensate Pensate questo ragazzo Che è convinto Di star giocando Con power How many wins do I have In solo No Skin Skins But it doesn't matter Quasi tutte Ma quando mai Ma quando Ma non è vero Che questa cosa succede Someone sniping us Behind Ecco io costruivo Io buildavo peggio di così Comunque From where I have to launch Ok good game Ma non ridono per lui Perché io buildo ancora peggio Mi fa ridere perché Lui dovrebbe interpretare Power Non riesce a fare Due mure Yeah yeah don't worry Mi sto in***o Panicando di Cristo ragazzi Ce lo vedo Power che non riesce Che non fa Pavimento Salita Piramide Yeah yeah don't worry Yeah yeah don't worry Pavimento Muro Piramide Muro Il tutto mentre va Su e giù Con la penna È il foglio Ragazzi Yeah in front of us Oh so che c'è chi No oh so che c'è chi No ti c'è chi Oh my god behind us Where is him Up here behind Behind him Oh perché ha tirato la cli Builda Marry Builda Marry Marry è fortissimo Su coda Non lo mette in dubbio Murray scusate Murray Io l'ho sempre chiamato Murray Cazzo Ok bro Thank you for joining me I gotta go now Ok bye Thank you Welcome to the DPG Bye bye Ma basta Vabbè ragazzi io ci ho provato Poi ovviamente il vero Murray è venuto fuori Minchia mi sono imparicato al primo round Al primo vero fight Però spero che il video vi sia piaciuto Aspetta un attimo Ora siamo così Di una cosa Ti prego Dimmi che ha fatto Dimmi che ha fatto L'ha fatto anche con Ninja Dimmi che l'ha fatto anche con Ninja Penso che una guerra ai giorni nostri sarebbe Con ragazzi che provano a costruire E fare no scoop col cecchino Ah potrei guarda Considerando com'è sì No ti prego Troppo La pubblicità dell'evo ragazzi Non si sa mai qua Una porca troia La pubblicità dell'evo Non si sa mai Qua è un problema Ok Ma non si sa mai che cazzo E da un bel po' che non faccio un uovo Fingersi qualcuno online Ma come Allora questo è ancora più difficile Questo è ancora più difficile Perché Ninja lo conoscono tutti Ed è molto più difficile È molto più difficile riuscire a immedesimare Ninja L'ultima volta l'ho fatto con CiccioGamer L'hai già visto? C'è la barra rossa sotto Probabilmente l'avrò messo forse tempo fa Ma non l'ho mai guardato E direi che è andato abbastanza bene Però lì diciamo giocavo un po' in casa Perché alla fine Ciccio è italiano Era facile da imitare Ha fatto anche Ciccio Non era un personale Adesso non posso fare tutta la serata a burri Conosciuto E soprattutto era più credibile Trovarlo online Perché il 90% degli stranieri Non lo conosceva Con la musica della Pantena Rosa Sotto La musica della Pantena Rosa Sotto è bellissima Sarà altrettanto facile Oggi fingersi Ninja Scopriamolo insieme Innanzitutto ragazzi Prima di entrare in game Dobbiamo avviare la fase preparativa Cioè dobbiamo studiare Il nostro personaggio Per impersonificare Il gioco di Gesù è uscito Cazzo è vero E è uscito il gioco di Gesù È vero Cazzo Devo portarlo Mi vocali sono in it Cioè io ho apprezzato Ma i vocali sono in it Cioè io ho apprezzato Io ho apprezzato Ma non parla così Io ho apprezzato Sembra un isterico Più o meno Ma come? Questo tono di voce Un po' Non deve essere troppo maduro Deve essere un po' più Tra il bambinesco E il pazzo schizofrenico Ok il tono più o meno Ce l'abbiamo Adesso per quanto riguarda i capelli Come vi ho detto prima Ci siamo Non li ho pettinati proprio perché Sembri quanto più possibile Ninja E adesso Passiamo alla cosa fondamentale Che Ninja utilizza Cioè la bandana Ora io ho qua con me Qualche esempio di bandana Guarda Morini sei troppo sexy Io te lo dico Hai un sex appeal indescrivibile Quello che sicuramente adesso Dobbiamo fare è creare un nuovo account Perché nessuno crederebbe Che io fossi Ninja Se mi chiamassi Perfetto Nessuno crederebbe Che io fossi Ninja Vabbè oh Per l'amor del cielo Muri Anch'io scappello i congiuntivi No li scappello Anch'io i congiuntivi ragazzi Però mi ha fatto ridere Sentirlo così Abbiamo È diventato Di Maio Muri è diventato Di Maio Il nostro nickname Ciao XX Ninjas Bene adesso che abbiamo il nostro nickname Il problema è che Ninja gioca sempre con delle skin E noi in questo account non abbiamo delle skin Vabbè diremo semplicemente che un nostro account di prova stiamo facendo una nuova serie in cui ricomincio tutto da capo Ok sì va bene ci ho ripensato Ninjas Che coglio Però credo che almeno una minima skin potrebbe essere più credibile Ok questo è il microfono Questo è il microfono Vediamo come fa Ninja Non male però Non male Sei davvero Ninja Sì certo Ninja va in giro e parla col getta a caso No No dai poverino ma pensa a questo ragazzo che è convinto di essere con Ninja in gaming Ma dai poverino Sì ho detto che sono il vero Non vedete Muri Non vedete Muri sì scusatemi aspetta levo la cam la levo dai coglioni così la metto qua Anzi lo metto qui dove c'è infopartite che tanto non frega un cazzo Mando via ragazzi sta credendo non ci credo Allì Allì sai che Ninja Sono con Stai chiamando l'amico Sono con Ninja Ma dai Ma scusa ma come fai a crederci veramente Ok man Ok man Ho capito Comparare Ninja Il video Stai chiamando ora Ok 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 Just let me Poi mettere il volume perché è troppo Suolto Ok Just wait Just proteggimi in un po' Perché io Certo Proteggimi E una cosa che direbbe esattamente Ninja Proteggimi Ho dovuto mettere il volume del game Ok Ok No problemi No problemi No problemi Wait for me Wait for me Wait wait Come here I want to see your player Oh my god Ok Try to speak Did you hear me Ninja Ok Raga ma io non si posso credere che lui veramente creda che stia giocando con Ninja Oh 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 WTF Ma lui non ha niente C'è solo il piccone Murri e mo che fai C'è solo il piccone Come fai Ok Don't worry I'm gonna Don't worry I'm gonna hide you Ok As a friend Come fai I'm just dead Porca puttana ragazzi È già morto Adesso così salta tutta la mia copertura Io dovrei essere un pro player Dovrei verlo salvato Ninja Yeah I hear you How old are you? Just wait Just wait Ok ragazzi Devo dimostrargli che sono Ninja Quindi devo dimostrargli che non faccio così tanto schifo I'm 26 By the way Oh real? Oh shit Murri Guarda Secondo me Secondo me Non si convince che tu sia Ninja Secondo me Qualche dubbio ora gli viene Ok You are not Ninja Sai com'è Si è sgamato subito Che non sono Ninja Hi man what's up What's up Ma guarda Non so che sta facendo Are you there? Good to retrain Do you know me? No I'm a YouTuber and streamer Oh Have you ever seen Ninja on Twitch? Yeah I've got over 10 million subscribers On YouTube Oh If you want you can check right now You can search Ninja on YouTube Yeah Ma scusa Ma scusa Questo non sa nemmeno chi è So what's up Where are you from I'm from France Ok right now Ma scusa Questo ha beccato l'unico che non sa chi è Ninja I'm streaming So you're being watched by millions of people Eh si che cazzo è Joe Biden Milioni di persone Is it ok for you? Yeah Andrea ti odio e quando ridi sei rovinato Te lo dico Rido di continuo sei fottuto Questo raga è l'unico che non conosce Ninja al mondo Beccato C'entriamo di atteggiarci da pro player almeno Ok let's group together Where are you? I'm Uh Doing uh You check on YouTube? Yeah Check If we do a good match I'm gonna upload it Ok Ok I'm not very good Now I don't worry I'm a pro player E ovviamente Ninja farebbe queste costruzioni no? Do you know I've played with Drake as well? But you are not the real one Beh insomma poco conosciuto Già 4 anni fa si sapeva chi era Do you see my voice? No I've never heard your voice before Man listen I'm gonna make you famous So just play good Right? Yeah I'm gonna make you famous Did you see? No Very fast Ha 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 Divu Stefano Grazie per la sua Ha venuto alle armate Matino Che cosa ha fatto? Guarda come costruisco veloce Ma quanto è deficiente Famous So just play good Right? Yeah Look how fast I build Ha 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 Ma arri allora hai fatto due piramidi Very fast Ha 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 Very fast Ha 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 No vabbè Ma scusa ma Do you see how fast I build? Yeah I see that Yeah I'm the real one That's why There's a fight Okay One die Let's approach them Let's approach Be careful because They could have a snipe Okay I never lose a match man So don't make me lose Okay Yeah Oh Be careful Be careful man We are out Be careful of the safe zone If we stay out of the safe zone We die Do you know Yeah I know Okay Oh yeah I told you I told you man I told you man Okay Te l'avevo detto pirlone Guarda Guarda sotto Eh yeah I told you Te l'avevo detto pirlone I told you man Eh non so raga Scusatelo Sempre chiamato marri Chiedo scusa E morri Let's go Take this Take this Piglia this We have to go Okay let's Yeah let's enter the The safe zone Okay don't worry Let's go to the To our building They're coming for us Do you have a sniper man? Holy shit I just eat someone Where? North Le grandi descrizioni Ho colpito qualcuno North Fuck me Fuck me Fuck me Fuck me Just try to shoot them Just try to shoot them Gli hanno fatto Un headshot You're good as well You should open Un YouTube channel With me Yeah Merda Gli hanno fatto Un headshot A quella distanza E bravo Quello che sta sparando Oh Is there a Russian? Fuck me Fuck me Fuck me man Fuck me man Oh my god Oh my god Wild Wild man Hey what's up Are you there? Oh hello Hi Tuffy How you doing? Good And you? I'm streaming right now Is it okay for you? Yeah of course Have you ever heard about Ninja On YouTube and stream? Yes On Twitch? Yeah I'm Ninja What's up? I'm recording Fluirid Oh you can't Fluirid Right now Is it okay for you? If I upload on my YouTube channel I've got over 10 million subscribers Oh come on Come si smorti male Con la voce nasale di ninja Yeah don't worry man I'm a pro plopper I'm a pro plopper All right I'm a pro plopper I'm a pro plopper I'm a pro plopper I'm a pro plopper I'm probably dead No no Don't be Don't be Don't be I'm pro plopper Come here Come here Come here Come here You see You see I'm a pro I'm Che coglione You see I'm a pro Quello è rimasto immobile È rimasto fermo Con lo Con lo Mentre muovo il piccone You see I'm a pro Mano che è possibile You see That means Damn a pro I'm gonna help you Ma tanto è scemo I'm from England You should know me If you If you follow me on Twitch You should know me So why this question? Because Ninja is not from England What? Ninja is not Not from England I am Ninja You can talk to me Not to him L'ha fregato subito Perché Ninja non è inglese Fregato subito Drake Drake era meglio Che tu Sì You know Drake So man How long have you been playing Fortnite? About So L'ha fregato subito Immediatamente Proprio Si che è inglese Ho capito Però Anche se fossi inglese Se tu rispondi così Fai vedere che non ne sei sicuro Io non so dove sia Ninja Vi dico la verità Però Il modo in cui ha risposto Viene sgamato Cioè You know man It's quite annoying Because after this match I have to To go again on stream And I'm quite tired You know I stream all day long It's very Ragazzi ve lo dico subito Che venite inglese Americano Ora facciamolo subito Vediamo Ninja Che è? NinjaLytics Che cazzo Ma che è i Ninja Ma non i Ninja Ma porca puttana I Ninja Eeeh Americano Uno streamer americano di Twitch Ragazzi Americano Very very Tiring Allora va giù del tipo Non è inglese Ma murri Scusami Deve impersonare i Ninja E non sai nemmeno dove cazzo è nato We're wondering Probably why I'm just Level 4 You know Why I switch to another account Why you switch Because I'm I'm creating a new series In which I speak with random people And I make them famous That's why I'm gonna I'm gonna upload this video Right? If you have a YouTube channel That's the moment Where you have to spam it Ok? If you want to Frase mai detta da nessuno Se hai un canale YouTube È il momento di spammarlo Frase mai detta da nessuno In your YouTube channel You feel free to do it No, I don't have How old are you, man? 26 Do you have a girlfriend? No Why not? Unlucky Why not? You only like video games Not girls I don't want to offend you I'm just joking, man Don't worry Oh, I see them below us Questo è fatto di Di hashish Comunque ve lo dico Manuk, tu hai? Questo è fattissimo di hashish Ragazzi È come parla Ok, let's continue Let's continue Let's push Let's push Let's push Ma guarda Ma guarda Ma guarda Che cazzo In ginocchio Let's continue Let's continue E costruisce scale a caso Costruisce scale a caso Su la collina Ok, let's continue Let's continue Let's continue Scala lì Scala qua I don't know Let's follow in Let's follow in Ok, be careful On the left On the left Right, let's build Let's build Che cazzo stai facendo Murri Have you done there? He's down Ok, ok, ok Ok, ok Che cos'è questa costruzione? Ok, come here, come here, man Uh Let me heal He has bandages Oh, fuck me There's a fight in front of us Ok On the south Paperino, grazie per i 4 mesi di risalment Yeah, I'm gonna wait you there Ok I'm gonna wait you here Ok, ok Ok, I'm a man South East Si, si, finisco sto video e basta Non hai che ne ha to trascere avanti con Burri South East Ok Ah, però dai Cera, cera I missed him Cera, cera, in realtà Era un atto benino No, questo troppo alto, Burri Have you seen? Troppo alto Buono, no Di poco Nice shot, man All right, it is Good time Coming, coming, coming Dai, dai, io Vai, dai, dai Pian pianino Sa Murri, dove cazzo Toxie, c'è Mi grazie bella Sa Venuto la vera Ma, dino Dove cazzo si è andato È lì, è lì Spara, è lì Spara Dai, Murri Dai, Murri Prendi il piccone, Murri Se non li aprirai mai la porta Eh, che cazzo Ralf spacca tutto simulator Oh my god I'm down No, dai, Murri Facci il pivacco Noo Fuck Ok, man I have to tell you something I'm not the real ninja Non penso ci abbia mai creduto But I'm a youtuber as well I'll upload the video Not tomorrow But the day after tomorrow Do you want to know the nickname? No, what's your YouTube channel? Xmurri Xmurri Vi devo dire la verità Non sono ninja Ma secondo me Tava già sgamato da un po' Io te lo dico Io te lo dico da un po' Murri senza offesa comunque Ma avete detto che uscì